Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio e finalmente si torna a fare video dopo quattro tentativi falliti ieri ho dato quattro volte e quattro volte le pile non hanno avuto immaginate la mia contentezza allora, voi che programmi avete per Natale? io assolutamente nessuno, forse una festicciola cossi giusto per la partita sa su che bombino ieri è un ridicolo sempre massacrato, speriamo di massacrata anche oggi allora, comunque nel caso non si fosse capito perché c'è gente capace di chiedere perché squadra stava hanno visto maglia, poster, calendario, passamontagna del Milan ovviamente ha risposto Inter il governo eh ma che provera ma no, l'hai evitato Ieri Benedetta mi ha fatto un video regalo di Natale e non ha messo Satsuki e va bene mi ha detto fatti la parte no niente oggi allora e serviti anche questo è così che mi piace vincere guardate la potenza del mille falchi di Satsuki bambini il chitori e poi l'ultimo video ho detto mangeki invece che mangeki non mi avete detto niente io non lo so la prima svida è fatta povero Ragnaroud stavolta me la date un po di più vogliamo scherzare ho messo difficoltà difficile perché al normale spaccavo troppo Ma come sta dicendo questo video di Benedetta, no? Satsuki bambino con gara bambino, con il funeramento del seguito. Qua l'esame se ne sono nato per 10 minuti. Allora mi fa questo video, oh bello un video di Naruto. Beh, sarà il cardino sull'ultimo film, quello lì che parla di come hanno segnato la volpe. C'è Sasuki? No! Secondo voi era di mega di vento? Non ti parlo. Come ha fatto? E adesso reprembia, gara. Un pelino. Qua cosa è che c'è questo? Ci toghi! Oh yeah! Questo che cavolo è? Si, caga, si. No, 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 no. Adesso farà male. Adesso gli farò male io! Ci toghi! Sei un pezzo di... Io l'odio, gara. L'odio con tutto il cuore. Vieni qui! Ci toghi! Vieni qui! Vieni qui! Ci toghi! E stavolta non me l'hai fatta la mossa, eh! Così ti impari. Così come questo Sasuki non ha la... il Gokaki no jitsu. E quindi torna un po' più scomodo usarlo. C'è sempre il mille falchi, mille falchi. Va bene. Allora. Adesso vediamo a noi. Perché? Già cinque Sasuki. Allora ho giocato malissimo. Io a questo punto ho già fatto tre sfide. Adesso ho fatto sassaki bambini. Kakashi bambini. Sasaki. Va bene. Noi. Allora. Praticamente i miei video. Io non so. Quindi condivideteli. Non li condividete mai. Mettete mi piace. Due persone. So chi sono. Commentate. Si vedono. C'è un po' più di participazione. Perché sempre che i video li faccio per me stesso. Cioè io... Io non è che i video li faccio per me stesso. Io li sto facendo per voi. Cioè se voi non me li guardate. E' la Peppa Kakashi bambino. Non me. Oh! Shidori! Mi è anche un po' stancato eh. Non mi piacerebbe. E adesso un pochino le piglie. Oh! Ciao. 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 Ciao Kakashi. Shidori! Shidori! Ma lo è massacrato anche lui eh. E' troppo forte Sasuke. Cioè è una bestia. E' più forte. L'ho mai detto che Sasuke è forte. ... Spacco il mondo. Cioè... La potenza di Sasuke! In questo gioco. Il Sasuke è bambino. continuiamo, continuiamo allora, se io i video li faccio per me stesso perché voi non partecipate io smetto, cioè seguirò quei youtuber che ritengo degni e basta, cioè stop, io compro Obito che ha il Gokakyo nojitsu e il Lusenka nojitsu fate il rispetto cioè i video se li devo fare per voi, ma vi divertite vedo che partecipate me va bene, sono contento però se vedo che non mi partecipate che io sto facendo le cose da solo mamma mia Obito non so come ho fatto ho evitato ho evitato un Gokakyo nojitsu ho evitato un Gokakyo nojitsu dopo che lui ha evitato il Gokakyo nojitsu e adesso lo prendi tu vieni qui vieni qui Obito vieni qui bastaldone Gokakyo nojitsu di nuovo quindi voi partecipatevi di più ai video e allora mi risveglio e stavolta le prendo l'avvento del Will Falking mamma mia nooo nooo me l'ha fatta prima lui non ci credo c'è sopravvissuto con un con l'uno per cento di vita ha vinto Obito ti sto odiando in questo momento ti sto odiando ora le prendi adesso le prendi te la smetti di evitarmi tutte le palle di fuoco porca miseria chi ti credi di essere che cavolo vedi che le prendi anche tu e poi la rievita poi mi tocca camminarlo così che non fa effetto dopo le si evita questo oh e che cavolo adesso le prendi eh si dovi adesso le prendi è rompito del cavolo con l'uno per cento di vita è rimasto uno gli fa un lamento dei mille falchi lui sopravvive poi vince per il culo che mi fa la mossa prima di me cioè nel senso colpisce prima quant'uno ha fortuna ha fortuna perché quella io ho stravinto ok facciamo l'ultima che sono già 11 minuti oggi ho giocato male stavolta prendiamo Sasuke grande perché con il Taka con l'amaterasu quanta figa contro Killer B Killer B romperà non un po' come lo dico romperà non un po' forse perdo anche questa forse perdo anche questa contro Killer B Shidugi subito e scendoli di nuovo scendoli di nuovo mamma mia scendoli di nuovo e adesso devo fare un po' il bastaggio per evitare che mi colpisse perché non posso evitarla l'erbi sappi che ti studiamo e tonno materasu quanto è bella questa massa e qua finisce Shidori credo e si hai ragione è stato veramente patetico io credevo che l'avrei prese da Killer B invece e direi che per oggi può bastare 5 vinti una persa per culo ti odio ti odio obito e uno gli fa la metà di mille gli fa e lui mi colpisce proprio non so perché l'ho fatta anche prima io l'ho mossa non so perché lui ha avuto questa fortuna forse perché va avanti col calcio io avevo la mano indietro quando una fortuna ma dopo l'ho presa e niente qua il video finisce voi fate quello che ho detto partecipate perché io i video non li faccio per me stesso commentate mettete mi piace condividete perché 2000 visualizzazioni ho controllato con 40 video fanno 50 visualizzazioni a video solo che ho video con 200 visualizzazioni alcuni con 9 per farvi capire e niente passate buone le feste se spera sasuke è il mio personaggio preferito senza de lui non è Naruto per me Naruto finisce a sasuke contro i tachi penso che seguivo appassionatamente e detto questo direi che possa bastare sasuke più forte nel caso non l'avessi già detto obito del cavolo devi treppare e poi lo riaffronterò anche da adulto ma lo creperò sicuramente e arrivederci